buonasera e bentornati con questa nuova puntata di municipio x apriamo la settimana con un artista che secondo me è definibile come perfetto connubio tra parola e immagine però lascio lei che si presenti ciao io sono claudia in arte claudine e sono adesso dopo il consiglio cantante prima illustratrice dopo da milangeles da milangeles ci piace anche un po' più di visibilità sì prima cantante che illustratrice perché ripercorriamo ritroso la sua carriera ma tu sei cantante un po come nata la tua passione per la musica quando iniziato quando insomma quando è stato l'avvio di questa nuova carriera allora in realtà la passione per la musica c'è da sempre è che mi sono concesso di seguirla diciamo seriamente un po tardi cioè almeno esternamente perché comunque l'ho sempre fatto nel mio privato un po nascondendomi sempre stato difficile per me metterci la faccia nelle cose almeno negli anni precedenti e quindi niente più a livello diciamo più professionale più serio iniziato un po tardi però c'è sempre stato questo amore gigantesco ma dicevi che sei partita da youtube insomma hai iniziato una carriera più dietro le quinte perché ti veniva più semplice avevi un approccio migliore perché poi facevo da sola a casa mi riguardavo dopo sempre con una grandissima criticità però comunque mi risultava più semplice perché ero da sola non c'era nessuno mettevo e era più semplice per me ricevere possibili critiche diciamo non in maniera diretta quindi era un medio insomma per poter avvicinarsi alla musica però in modo graduale anche al pubblico quindi la musica ti ha visto che insomma oggi la tua carriera sta avanzando e quindi hai un rapporto maggiore con il pubblico perché insomma hai quattro singoli in uscita e insomma la musica ti ha aiutato poi comunque la pratica ti ha aiutato a superare questo timore del pubblico della critica oppure ancora oggi la trovi allora ancora oggi diciamo che faccio un po fatica nel senso poi parlando anche con gente che proprio fa questo da tantissimi anni è proprio uno scoglio che difficilmente riesci a superare cioè poi fai pace con te stesso e vai però è comunque sempre un'emozione comunque mostrarsi davanti agli altri liberarsi cantare in pubblico ma quello è anche il bello quindi ci sta ma hai studiato musica oppure sei autodidatta allora negli ultimi anni nel senso da partire che è stato dall'università quindi sì sono passato un po di anni teniamola nascosta però sì a partire dagli anni dell'università iniziato a studiare canto un po piano sono andata un po così no per comporre quindi non è che eccello assolutamente e niente però sì mi sono più approcciata al studio della musica se tu scrivi i tuoi testi sì 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 scrivo compongo poi mi faccio anche aiutare a livello proprio più musicale però sempre scritto mi registro le mie melodie poi vado in studio e creiamo tutti insieme ecco perché sei un artista 360 però insomma mi interessava approfondire questa tua nuova dimensione la carriera da cantante se io dovessi conoscerti tramite i tuoi testi cosa emerge allora bella domanda hai qualche tematica che ti stimola a scrivere o comunque che ritroviamo nelle parole allora in realtà all'apparenza i testi sembrano tutti molto puntati sull'amore in realtà molto spesso la cosa nascosta è che parlo proprio del rapporto con me stessa come se fosse un'altra persona quindi sì diciamo che appunto nei primi testi l'ho fatto un po più cioè diciamo piano piano sono entrata nella cosa perché è stato difficile anche lì comunque raccontarmi a 360 gradi però diciamo che sì metto metto me stessa nei testi racconto un po' dei problemi passati un po' delle disavventure che ti hanno portata a scrivere poi quello che sei anche quindi la vedi un po' un'evoluzione insomma la musica i tuoi testi quindi la scrittura per avere un rapporto diverso non solo con gli altri ma anche con te stessa sì sicuramente sì sicuramente sì infatti poi con gli anni sono riuscita ad essere più più libera si vede anche diciamo nei testi cioè adesso nelle cose inedite che devono uscire comunque lo vedo riesco a liberarmi di più così come anche nella vita nei giorni sei ormai poi sei lanciatissimo sei ospite per podcast quindi radio programmi insomma ormai diciamo che il progresso è in atto speriamo ma appunto quindi abbiamo parlato di musica musica che serve a superare delle debolezze però se la mettiamo così insomma vedendoti sui social parlando con te non mi sembra che davvero ci siano effettivamente delle debolezze ma li definirei piuttosto degli slanci sei d'accordo tu come la vedi ma in realtà cioè in generale la cosa la cosa positiva è che ho capito che in realtà le debolezze se si dice se vissute in modo tranquillo nel senso che ognuno di noi ha i propri problemi alle proprie difficoltà non è che siamo persone perfette cioè nel senso io vivevo male il fatto di voler fare un certo tipo di carriera cioè di volerlo fare e di avere però delle dei blocchi c'è comunque delle insicurezze perché ho sempre vissuto nell'idea che uno che vuole stare sul palco che vuole vuole fare qualcosa a contatto con il pubblico debba essere super tranquillo super sicuro in realtà ovviamente è una cavolata quindi niente una volta che ci si relaziona in modo tranquillo anche i propri punti deboli riescono a diventare anche dei punti di forza sì forse l'accettazione che fa da volta pagina insomma ti permette di sfruttare la chiave in modo diverso sì sì una cosa che vedo dall'esterno che molti dicono no la cosa che mi piace che comunque si vede una certa dolcezza che a me non vedo però deve essere un po' quel mio aso un po' più insicuro che esce fuori e magari riesce anche a piacere a comunicare di più forse anche il lato un po' più umano anche perché siamo abituati ad oggi a delle immagini quasi divinizzate no? di personalità che raggiungono tutto e subito senza gavetta in maniera eccelsa la perfezione interiore e esteriore in realtà poi insomma è difficile nel mondo universitario lavorativo trovare effettivamente personalità del genere chiunque ha il suo scheletro nell'armadio la propria debolezza quindi penso che aiuti anche il tuo pubblico sì esatto perché io ad esempio nel periodo in cui avrei voluto fare questo passo avrei avuto bisogno di un adesso non è che sto parlando di me però di una persona che facesse capire che in realtà ha avuto delle difficoltà che adesso se ne parla di più però avere un'immagine sempre forte sempre perfetta ti concedi meno cioè nel senso pensi che non sei adatto a fare quello perché devi essere così avere qualcuno che comunque ti dimostra che anche con semplicità riesce a fare delle cose adesso non parlo di me ma parlo in generale è sicuramente positivo e di aiuto anche vabbè certo passa attraverso la propria esperienza per poter comunicare con gli altri e sarebbe praticamente impossibile quindi a chi ti segue, chi ti ascolta, al pubblico che sta crescendo intorno a te cosa ti sentiresti di consigliare se avessi davanti a te una ragazza, un ragazzo insomma chiunque sia con il tuo stesso sogno nel cassetto e con le stesse paure perché poi ci rendiamo conto che in realtà le paure a livello storico poi sono cicliche, le sono condivise un po' da tutti daresti qualche consiglio? allora adesso magari viene una roba super, no però di sostanzialmente di seguire veramente le proprie passioni più che altro ognuno di noi ha del potenziale ed è un peccato lasciarlo un po' inespresso ma anche per se stessi perché io appunto già adesso vivo un po' nel pentimento di non aver seguito prima queste mie passioni quindi figurati tra decine di anni avere il dispiacere di non averci provato quindi sicuramente di provarci e di trovare il modo migliore per se stessi per farlo perché comunque si può plasmare tranquillamente la strada e riuscirci beh mi sembra che le tue parole possono essere un grande insegnamento per chi comunque qualunque età abbia si senta di voler intraprendere un percorso nuovo ma tu oggi ti esprime e ti esprime a 360 gradi insomma hai detto una cosa bellissima mi pento quasi di aver lasciato un talento o comunque un'emotività quasi inespresso però mi sembra che sia tutt'altro che inespresso hai aspettato un po' però sei venuta fuori insomma sei smocciata come artista non sei partita dalla musica? no da cosa sei partita? dall'arte perché mi è sempre venuto più semplice poi appunto come ho detto prima non ci dovevo mettere proprio la faccia quindi sicuramente è stato più semplice il problema che anche il motivo della mia presentazione è terribile è stato che ovviamente tirare fuori una passione dopo un'altra un po' destabilizza perché uno dice ma questa cosa vuole fare tutto in realtà quella per la musica è sempre stata la mia passione principale ma non ho mai avuto il coraggio di dirlo però comunque diciamo che si come si dice si completano ma si innescono bene l'una con l'altra esatto se penso ad Apollinaire che comunque è un famosissimo poeta usa la parola ma usa anche l'immagine per cui di questo non devi avere timore ma anche perché da dove sta scritto che l'essere umano non può essere dicotomico no no infatti puoi avere un aspetto come puoi avere anche l'altro esatto state coltivare quello che ti rappresenta meglio esatto queste miniature che ho avuto la fortuna di vedere così in diretta dal vero e sono veramente molto espressive sono vivissime grazie che temi usi per le tue miniature come partita? da cosa ti fa ispirare? allora in realtà la cultura pop in generale quindi personaggi di film che io sono una super appassionata piuttosto che c'è ultimamente anche meme o comunque artisti quindi tutto il mondo un po' pop e poi così anche l'astronomia che mi piace molto mi affascinano molto quando vedo le foto della NASA quindi cerco di ho visto questi cerchi quasi magici sì sì quindi pianeti, nebulose eccetera eccetera questi mondi principalmente per il film ho visto Pulp Fiction sì sì anche il pagliaccio diciamo che il cinema mi concentro soprattutto su quello ma perché ho più un'emotività legata proprio a film che mi piacciono personaggi che mi hanno appassionato particolarmente se ci pensi il film è parola immagine per cui sei sempre molto corrente però appunto queste miniature mi incuriosiscono perché io ho una domanda insomma sto che sono molto piccole ci vuole una grande precisione no? tu sicuramente sei una persona precisa amante del dettaglio perché altrimenti come potresti realizzare disegni del genere? sì in quello eh anche poi nella vita sono proprio confusionaria però in quello sì si vede che ho i miei minuti lì che mi prendo e quanto ci metti a realizzare una miniatura? allora tanto nel senso che in realtà sembra che avendo l'immagine così piccola ci metti poco in realtà c'è proprio un procedimento diverso anche nella resa dei colori di tutto e quindi in media sulle sei orette aspetta sì perché già il disegno a mano comunque un'ora e mezza due di media poi ovviamente ci sono quelli un po' più semplici però c'è proprio non so ad esempio realizzare un volto piccolino magari fai una linea leggermente sbagliata già da un aspetto del naso totalmente diverso dell'occhio sì infatti l'occhio forse è l'aspetto che mi tocca di più perché per essere viva un'immagine insomma l'occhio gioca una parte molto importante sì 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 è la parte che proprio mi diverte di più creare perché è proprio quella appunto come dici tu viva e quindi mi soffermo molto su quello comunque in generale sì parecchie ore e pazienza e tra tutte quella che appunto ci ha ispirati che oggi abbiamo avuto l'onore di vedere è la miniatura di Gerry Scotti tra l'altro nella tua caption e la biografia tu dici di essere ossessionata con Gerry Scotti sì 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 spiega un po' chi ti segue cosa vuol dire ossessionata con Gerry Scotti ossessionata con i meme perché sono veramente stupida una persona molto stupida e quindi vabbè ironica ironica se non si sa scherzare è un po' difficile andare avanti e quindi se ne trovano tantissimi io sono ossessionata da quelli mi divertono tantissimo e niente per ridere ho messo anche questa cosa nella bio e... sta arrivando e niente è molto divertente un personaggio molto... eccolo questo è Gerry Scotti che vorrei poter fare ammirare ma... lascio a te sì ok ecco non penso che dal video si possa effettivamente vedere bene quanto in realtà Gerry Scotti è espressivo in questa miniatura eh sì Gerry se ci stai guardando questa ragazza veramente ha sfruttato al massimo la sua potenzialità per renderti al meglio gli arriverà gli arriverà però sul video poi si possono vedere oltre che sulla tua pagina noi facciamo vedere una riduzione della miniatura ok così si possa guardare in maniera approfondita ok grazie quindi questa insomma è la nostra preferita diciamo che resterà il ricordo del nostro incontro della miniatura di Gerry Scotti quindi mi hai spiegato perché amante di Gerry Scotti hai fatto venire fuori così anche un altro aspetto del tuo carattere che in realtà sei molto ironica, molto simpatica per cui è molto facile chiacchierare con te però prima di salutarti vorrei chiederti due cose intanto dove ti si può trovare come cantante e come illustratrice allora come cantante su Spotify e qualcosa su YouTube però ci stiamo lavorando nel senso che video adesso devono arrivare i progetti sono dietro l'angolo esatto per cui aspettiamo delle navità illustrazioni soprattutto su Instagram perché Facebook lo sto usando un po' poco e su Etsy è un negozietto online sì con stampe e le originali ok quindi per chi volesse scoprire qualche opera di un artista emergente Etsy è un'ottima piattaforma dato un'occhiata prima al profilo ti farei la domandona quella da finale quella la accendiamo se vogliamo restare in tema il tuo sogno del cassetto visto che mi hai un po' descritto chi sei volendo o no insomma dimmi un po' il tuo sogno del cassetto allora è molto difficile ma perché io ho diciamo chiara l'idea del futuro che vorrei più o meno ma ragiono per pezzettini quindi non ti so proprio cioè nel senso il mio sogno nel cassetto adesso sarebbe non so finire di realizzare la roba che c'è proprio dietro l'angolo perché vado proprio per gradini pian piano in generale cercare di arrivare il più lontano possibile un po' generico però in queste due passioni riuscire poi a mescolarle ad essere credibile in questo senza sembrare che non ci sia proprio una direzione precisa ma proprio riuscire a fare un discorso lineare esatto esatto nonostante due mondi poi alcuni dicono lontani ma in realtà vicinissimi perché l'arte e la creatività è un po' in tutto diciamo che oggi secondo me abbiamo visto che in realtà non sono poi così distanti beh mi sembra solo nel cassetto in realtà ben delineato nel senso che non si deve per forza arrivare a un obiettivo materiale cioè il fatto di poter scoprirsi strada facendo mi sembra già un ottimo sogno nel cassetto sì 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 è stato un grande piacere chiacchiare insieme a te anche per me grazie ricordaci un po' dove ti troviamo di nuovo le piattaforme così per chi volesse andare a vedere le tue miniature e ascoltare la tua bellissima voce insomma ha uno slancio ulteriore su Spotify Claudin e su Instagram I am Claudin ok perfetto allora noi ci rivediamo alla prossima grazie a te Claudin ciao e buona serata ciao 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 ciao